Si è allontanata da casa lo scorso sabato mattina, attorno alle 6.20 non ha dato più notizie di sé. A lanciare l'allarme sono stati i familiari di Sonia Agnelli, 46enne, residente a Castel San Nicolò, che manca ormai da casa da alcuni giorni. La donna sarebbe stata vista salire su un autobus diretto a Firenze sabato mattina. Con sé aveva uno zainetto di pelle, indossava una maglia bianca e pantaloni rossi. È di corporatura robusta e attualmente ha i capelli castano scuro. Sonia non avrebbe portato con sé il proprio cellulare. La donna inoltre soffre di una patologia psichica che la obbliga a fare uso di medicinali, che non ha con sé. I familiari della 46enne hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri che stanno portando avanti le ricerche. Prima di allontanarsi da casa per non farvi più ritorno, la donna avrebbe lasciato un biglietto con su scritto sabato 5 agosto prendere l'autobus per Firenze, proprio quello su cui alcuni testimoni l'avrebbero vista salire. Chiunque l'avesse vista può contattare i familiari della donna.